buongiorno popolo viola anche oggi siamo qui con viola blog per potervi raccontare tutto quello che accade in casa fiorentina quest'oggi sono a san marcellino sul campo della fiorentina femminile dove è in corso la rifinitura prima della finale di supercoppa di domenica contro la juventus e adesso vi mostriamo un estratto della live con lana clenland lana come è andato l'allenamento di rifinitura di oggi oggi l'allenamento è andata bene che abbiamo fatto che scarico che preparazione per la partita quindi siamo tutti bene in anticipo per questa partita a livello psicologico come si recupera con così poca distanza dalla semifinale contro il milan una partita poi che ci sarà domenica sapendo che è una finale il momento dopo la partita l'altro giorno però poi subito la testa la partita quindi siamo concentrati e siamo pronti cosa ti aspetti dalla partita di domenica come si affronta la juventus una partita contro la juventus è sempre difficile però per chi chissà di firenze la fiorentina sempre una grande onore di giocare queste partite quindi niente si porta queste emozioni in campo e si fa il meglio possibile guardiamo anche un po un occhio alle domande che ci hanno scritto per te alessia scrive emozioni provate dopo l'assist della supercoppa del 2018 l'assist era era un momento bello anche per me per la squadra di portare quel trofeo a firenze era quella che mancava quindi era veramente un onore e è un bel ricordo si tcf ci scrive quanto pensi di poter ancora dare alla squadra viste le motivazioni dopo gli infortuni si sono passati due anni veramente difficile però ora ormai in passato sono tornata quest'anno pronta a dare tutto e sono in un buon fisico quindi sono pronta quando sarà il momento ultima domanda quanto ti manca vedere i tuoi genitori sulle tribune che ti sostengono mi manca tanto la mia famiglia ha passato un periodo di piccio però sono riuscita a vedere la natale quindi sto bene e lo aspetto quando possono venire a Firenze come vedete alle mie spalle gli ultimi sguardi agli schemi tattici prima della partita vi do appuntamento a domani dopo la conferenza di Cesare Prandelli con i giornalisti ci saremo noi con una live per rispondere alle vostre domande al mister